Ok, buonasera a tutti e rieccoci, ancora una volta siamo sintonizzati su Cannotv, benvenuti o bentornati, oggi parliamo di cinema, parliamo di Netflix e di un film che potreste, potreste, se foste così incauti da decidere di vederlo, trovarlo appunto su Netflix perché è disponibile. Trattasi di un film danese del 2022, insomma più recente di così, che non mi si venga a dire che io guardo soltanto film del 1750, tutte queste leggende che circolano attorno alla figura di Cannotv, più recente di così, film del 2022 danese, si intitola già il titolo, insomma, Un marito fedele, ecco, Un marito fedele diretto da Barbara Topsoe Rotenborg, che è una figlia d'arte, peraltro figlia di un'attrice che io non conosco, che si chiama Judith Rotenborg, dovrebbe essere questa la sua quarta regia, per cui insomma non è neanche un'opera d'esordio appunto di questa regista danese, che ha cercato, secondo me, di strizzare male l'occhio alle tematiche iccocchiane del delitto perfetto, perché fondamentalmente il film ruota attorno a una coppia, all'apparenza perfetta, che vive insomma in una villetta, un figlio adolescente, lui lavora in un cantiere edile, qualcosa del genere, lei ha sacrificato la sua carriera da violinista per appunto fare la casalinga, stare dietro al figlio, mentre appunto il marito insomma lavora in questo cantiere edile, è peccato che si viene a scoprire che lui tradisce lei, ecco, nei primi minuti del film scopriamo appunto che lui ha una storia con una sua collega di lavoro, un architetto, qualcosa del genere, che peraltro non si capisce come mai abbia sempre le unghie perfettamente smaltate, visto che lavora in un quartiere, gira con la tuta, con il casco, però ha le unghie sempre impeccabili, quindi, ma, vabbè, si viene a scoprire appunto che lui tradisce lei, e si viene a scoprire anche che questa moglie, interpretata da Sonia Richer, a cui probabilmente è affidato il ruolo più interessante del film, ricatta, ecco, inizia a ricattare il marito perché sembra che il marito abbia qualche intrallazzo poco pulito, poco legale per quanto riguarda il suo lavoro, quindi lei minaccia lui di lasciare lei perché se lui lasciasse lei, lei appunto andrebbe dalla polizia a raccontare tutti i suoi intrallazzi. Allora lui che cosa decide di fare? Decide di uccidere la moglie, quindi che cosa succede? Succede che l'aspetta mentre a bordo di un furgone, a bordo di un ragazzo, a bordo di un furgone bianco con targa rumena, l'aspetta nella via in cui sa che lei è solita fare jogging, e la tira sotto, insomma, appunto, con questo furgone. Peccato che tira sotto un'altra, anche se non è che sia chissà quale grande spoiler perché è questo colpo di scena da cui poi si sviluppa tutta quanta la storia del film che dura un'ora e mezza abbondante, che poi va a riguardare anche il passato della moglie del personaggio di Sonia Richer, e si scopre che in qualche modo lei non è molto a posto di testa, insomma, a qualche malattia, a qualche ossessione che la rendono in qualche modo, in qualche maniera pericolosa. Peccato che questo colpo di scena dal quale dovrebbe partire tutto quanto il film era già telefonato, cioè si capiva benissimo che lui avrebbe tirato sotto un'altra che non fosse sua moglie. Oltretutto ci sono dei buchi di sceneggiatura veramente assurdi, il soggetto è curato da Anna Ekberg, Anders Ronnov, Clarlund e Jakob Weinreich, quindi soggetto curato da tre persone per una sceneggiatura curata da Clarlund e Weinreich, quindi sceneggiatura a quattro mani che non spiega alcuni buchi logici assolutamente evidenti, come ad esempio il come la moglie riesca a smascherare il marito ottenendo dei filmati di sorveglianza dall'autolavaggio in cui è solita recarsi, in cui ha fatto un abbonamento, scoprendo così attraverso questi filmati che il marito stava pulendo questo furgone con cui aveva tentato di investirla, ma scusate, la polizia non poteva arrivarci, la polizia non ci arriva a visionare questi filmati di questo autolavaggio, cioè ci pensa la moglie ma non ci pensa la polizia, ma vabbè, insomma il film è pieno di buchi logici piuttosto inspiegabili, la regia è televisiva, sembra di guardare una puntata di un telefilm da domenica pomeriggio, insomma da ora di pranzo o qualcosa del genere, buona la fotografia di Philip Kress, il cast secondo me è piuttosto sbagliato perché il protagonista, Dar Salim, che interpreta appunto questo marito fedele, più che altro poco fedele, è un attore danese di origini medio orientali, raramente mi è capitato di vedere un attore meno carismatico di questo Dar Salim, non lo so, insomma non è che faccia proprio una grande parte, peccato, perché magari se avesse avuto un carisma maggiore, maggiore poteva insomma anche tirare fuori qualcosa di più interessante dal suo personaggio, Sonia Richer che interpreta Leonora appunto la moglie di questo uomo che poi appunto si rivela essere particolarmente disturbata con un passato anche fatto di omicidi, insomma decisamente poco pulito, si affida ad una recitazione piuttosto sopra le righe, sfruttando anche i tratti del volto che se vogliamo, se si è fotografati in una determinata maniera potrebbero quasi risultare inquietante, però è una interpretazione quasi macchiettistica, ecco, che a mio avviso risulta decisamente poco credibile. Quindi insomma un filmettino, un filmettino che io onestamente ho anche fatto fatica a finire di vedere. Se l'avete visto fatemi sapere che cosa ne pensate, sicuramente sconsigliato almeno dal mio opinabilissimo punto di vista. Grazie a tutti per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video. Ciao a tutti!